Buongiorno a tutti, buon giovedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video trattiamo un argomento che abbiamo già trattato in passato approfondendolo maggiormente ovvero discuteremo dei rimborsi IMSS che l'istituto riconosce fino a 5 anni per alcuni pensionati. Cerchiamo quindi di fare chiarezza nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Grazie. Come detto poco fa in questo video parliamo dei rimborsi che IMSS deve versare ai pensionati che hanno subito tagli sulle loro pensioni di reversibilità a causa dei loro redditi. L'istituto di previdenza sociale è obbligato a adeguarsi a causa dei redditi e procederà con i rimborsi per somme che sono state tolte indebitamente ai vari pensionati. Come detto a inizio video questi rimborsi andranno indietro nel tempo e saranno quindi retroattivi fino a 5 anni e proprio per tale ragione chi ha ricevuto questi tagli potrebbe ricevere una bella somma restituita da IMSS. Partiamo dicendo che chi ha redditi propri non subirà più tagli applicati sulle pensioni proprio a partire da quest'anno grazie a un'importantissima sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che ha dichiarato questi tagli incostituzionali. Quindi IMSS sta rivedendo le regole e procederà con i rimborsi per gli anni passati. I pensionati riceveranno tali rimborsi dall'anno 2019 come detto poco fa per un totale di 5 anni mentre gli anni precedenti andranno invece persi. Quindi dal 2019 in poi riceverete quanto decurtato indebitamente. Se quindi pensate di aver subito dei tagli alle vostre pensioni è importante verificare il tutto in primis se soddisfatti i limiti reddituali per poter richiedere un rimborso ovvero se questi tagli sono stati applicati in maniera indebita e poi contattare IMSS per avviare tutta la procedura. È vero che IMSS in questi casi procede in maniera del tutto autonoma ma se pensate di avere diritto a questi rimborsi e non avete ancora avuto notizie sulla ricezione di essi è meglio contattare IMSS. L'unica cosa negativa è che se consideriamo le varie lungaggini dell'istituto di provvedenza sociale è probabile che tali rimborsi arrivino in un lasso di tempo non ben specificato ma comunque attenzione amici vi spettano a tutti gli effetti.